Musica 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 E ciao ciao ragazzi, se non ci capite io sono What Benvenuti in questo video, oggi siamo qui Sul Play Store Perché cercheremo giochi Mobile, stupidi Ma proprio stupidi, probabilmente questo video lo sto registrando per la seconda volta, l'avevo registrato in un modo diverso prima, ma comunque perché sto registrando con il mio cellulare, il mio cellulare prima lo usavo come webcam, però se il mio cellulare ce l'ho in mano, non posso usarlo come webcam, no? E quindi diciamo che lo usate ogni mio vecchio cellulare e che prima registra una qualità infima, adesso dovrei aver sistemato, spero, vabbè. Comunque andiamo a cercare dei giochi consigliati per me, andiamo a vedere dei giochi consigliati per me, ma questo che sembra lo sfondo di iOS lo voglio, è sempre della voodoo, cioè tutti i giochi sono della voodoo per mobile chiaramente dovete martellare quando io sto registrando i video, no? apriamo? Ogni gioco della voodoo ti chiede di fare questi tre accetti comunque è orizzontale, siiii quindi non puoi metterlo su Instagram TV questo ok, faceva schifo allora, mantieni, accetto rilascio, salta, mantieni il tempo quindi è così, così ah, devi fare ma what? non ho capito usiamo la skin del fantasmino che non la volete voi la skin del fantasmino eh, io certo che la voglio, allora io non ho capito cosa devo fare prendere le monete? ah, non mi devono prendere questi cosi PERCIOI Vucks 20 secondi di pubblicità ma siete seri? Cioè volete che Non lo so Mi metto a montare un video Ci metto meno tempo Allora teniamo premuto Oh my god Non c'è una pubblicità incredibile Tu Poi vediamo le monete Ma non ho capito cosa devi fare in questo gioco Non devi toccare O non devi sbattere No Non gli do i punti Ok questo gioco mi fa schifo Vedete che c'è la cosa che mi fa schifo Direi che questa è la soluzione migliore Torniamo sul Play Store Prendiamo Slingdry Il mio telefono si è diventato un botto Cioè non tantissimo Però un po' sta scaldando Si vede che sto giocando Cioè si vede che non c'ho quasi mai giocato su sto telefono This is a fibra This is a fibra No La cuffia la tengo così Parlo così così Mi muoiono un po' le orecchie E moriranno anche a me Quando monterò Questo No raga ho paura per me stesso Questa pezzo Questa pezzo lo devo tagliare L'italiano Non è della V2 È della TastyPill È della TastyPill o della Ruby? È una collab È featuring È TastyPill Non mi ha neanche chiesto Cioè su questo telefono ci sono tre account Google Ma non lui sa che deve vintere il mio account personal Allora Tap to start Oh 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 Release now Ah devo fare i drifting Sì Come si chiamano? Le city dipping Le derapate No Tu puoi Sniper Arena Non ci gioco Io sto giocando su mobile Per la prima volta dopo anni probabilmente Cioè l'ultima volta che ho giocato è stato A parte ogni tanto a Pokemon Go E poi se lo penso a PUBG Mobile Non so giocare neanche a un gioco Dove devo girare le macchine Cioè non a Fortnite No no Manco a questo so giocare Ma poi il gioco di macchine Scusa La maglina orizzontale Uuuuh Uuuuh E finisco col tal muro E finisco di nuovo con tal Trato Perché alla fine non è un muro Non mi ha girato raga Ui E di nuovo sto gioco Ma perché dovrei giocare a un gioco In FPS in verticale Ho un PC Una PS4 Per giocare agli FPS Anche per giocare ai giochi di macchine Ho detto che lì c'è Gran Turismo Però vabbè Ho perso per indicarti Gran Turismo Il congiuntivo Il tifo La differenza di altri Porchi Devo stare zitto e non nominare i D Ma di diversa categorie Chiude Audition bestemmia No 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 Sì 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 Io per questo video ho finito Prima che Inizio a dire brutte cose E poi devo censurare tipo Mezzo mondo Quindi ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciate un like Se vi piace Vedermi ancora cercare giochi a caso Sul Play Store Ma anche sullo store della Play O sullo store del computer Tipo di Windows 10 Fatevelo sapere Io sarò ben niente Quindi Guarda c'era per tutto Vi ci vediamo in prossima Ciao